Era in programma ieri sera una riunione importante per il futuro calcistico dell'Andria, ce ne sarà un'altra a questo punto decisiva. Lunedì mattina sarà gioco forza l'incontro del dentro o fuori in chiave serie D tra il sindaco Nicola Giorgino e i soggetti interessati a sedersi al tavolo con il primo cittadino per formare la nuova società che erediterà il testimone della Fidelis. Sarebbero cinque, assicurano i ben informati, gli imprenditori locali disposti a contribuire alla causa, ce ne sarebbe un altro, forestiero ma comunque pugliese, che farebbe parte come punto di riferimento del gruppo. Sembra invece esclusa al momento la presenza di Vito Ipedico e del suo entourage nell'iniziativa. Il tempo a disposizione sta per esaurirsi. Entro martedì prossimo va formata la nuova società e non oltre. Lunedì 6 agosto va versata la somma a fondo perduto di 150 mila euro oltre alla quota di iscrizione per chiedere l'ammissione in sovrannumero alla serie D. Se al termine della riunione di dopodomani non ci sarà l'attesa fumata bianca però bisognerà inevitabilmente fare i conti con la realtà e concentrarsi sul piano C considerando quello ha il tentativo di salvare l'Andrea tra i professionisti. Piano C che si chiama campionato di eccellenza. Capitolo bisceglie i tesserati nerazzurri con un giorno d'anticipo sul programma originale hanno salutato ieri il ritiro abruzzese di Alfedena e sono tornati in sede. Non c'è ancora una data ufficiale sulla ripresa dei lavori a conferma della situazione di estrema incertezza che regna in questo momento attorno alla realtà stellata. Il presidente Nicola Canonico intanto ha costituito ieri la società la S di Bari 1908 insieme a vecchie glorie come Toto Lopez, Pietro Maellaro, Michele Armendisi e Sandro Tovaglieri e concorrerà insieme alla S Bari Calcio 1908 del gruppo Bonachesi Nitti con Enrico Tattò presidente e alla S S di Bari composta da otto imprenditori locali per assicurarsi il sì del sindaco Antonio De Caro e guidare i biancorossi in serie D. La sensazione dunque che il futuro del calcio di bisceglie sia ancora una volta collegato a quello del capoluogo, martedì arriverà il verdetto definitivo.